Ben ritrovati, ripartiamo parlando dell'emergenza a siccità perché da giorni i consorzi rigui e gli agricoltori stanno razionando l'acqua utilizzata per irrigare. Intanto Coldiretti chiede la costruzione di nuovi invasi di medie dimensioni. Daniela Grassi. Anche nel Modenese la risorsa idrica sta scarseggiando. Si può parlare di una fase di allerta siccità. Aumento delle temperature estive, sfasamenti stagionali, piogge scarse stanno mettendo a rischio anche le nostre colture. Grazie però ad un'attenta razionalizzazione dell'acqua ancora non si può parlare di vera emergenza. Gli agricoltori hanno adottato infatti sistemi di irrigazione a basso impatto e messo colture che richiedono meno acqua. Il grande controllato è il Po e una delle sue deviazioni, il canale Emiliano Romagnolo. Quest'anno la piovosità si è ridotta drasticamente e si è iniziata a ridurre già dal principio della primavera e di conseguenza siamo arrivati nell'allerta un po' in anticipo rispetto all'anno scorso. Per Modena significa che già in maniera sorda le associazioni ma soprattutto i consorzi di bonifica in collaborazione con gli agricoltori tutti stanno già operando per ridurre al minimo lo spreco e per utilizzare la risorsa acqua nel migliore modo possibile. Di fronte alla tropicalizzazione del clima è necessario, secondo Coldiretti, organizzarsi per raccogliere l'acqua nel periodo più piovosi per poi distribuirla in quelli di siccità. Sebbene l'agricoltura abbia fatto enormi passi avanti per la riduzione del consumo adesso è importante concentrare le risorse economiche e incentivare la politica e le amministrazioni perché investano sull'intrattenimento delle acque superficiali, sull'invaso per poterle poi rilasciare quando ce n'è l'esigenza. La tropicalizzazione del clima ci obbliga a ragionare in tal senso.